Per quasi due anni, trasgredendo alle varie misure cautelarie messe nei suoi confronti, aveva proseguito a vessare la sua ex, una donna di 48 anni, tempestandola di telefonate anche in ore notturne, appostandosi sotto casa per poi affrontarla con il viso coperto da una mascherina e minacciarla, danneggiandole più volte l'auto, nonché pedinandola spesso a bordo del suo scooter, causando nella donna uno stato permanente di paura per la propria incolumità e un mutamento delle abitudini di vita. Ammonito e allontanato, un settantenne alla fine è stato arrestato per il reato di atti persecutori. L'informative dei carabinieri di Piazza Verga, ai quali la donna aveva chiesto aiuto denunciando il suo persecutore, contenenti tutte le prove raccolte a carico del reo, hanno infatti convinto il giudice ad emettere la misura restrittiva con conseguente sottoposizione dell'uomo agli arresti domiciliari.